Il 4 di Gennaio, Soncia Eufrosina Purjala. Soncia Eufrosina è stata d'Alexandria in Egipto. Sui interbiari senza famiglia, hanno l'ordine di tutti ricerche del signor in una figlia. Quella era bella, modesta, devoziosa ed inclinata da servire sull'etamain al signor. Già con 12 giorni ha Eufrosina piarsi la mamma. Il Papa ha l'umesso ella in una scola. Più tardi ha il Papa Pamp-Nunzius permesso i figli ad inibili e rei cavaliere a incontrar la villa di Eufrosina che aveva si a mira di se ligliare sull'etamain con Iesus Christus. Eufrosina dice che la aveva si gronga regjament da dire in claustra e bo da maridar. Leveja di il signor ai tentont sta da autra. Eufrosina peterciava da se cupar in una claustra senza sever andrec in Genna perché il suo Papa amplibò ella. In una notte, Eufrosina veniva da amiciar discusami ad casa e si viva sull'etamain in una claustra. Il domone era scopius, sin Eufrosina per quale era, sin tala moda veniva da fugir del mondo e vivere in soncetà. A Dina Puspae veniva ella tentata di il domone com presentare ad ella il ciao, le larmes da siu Papa, la tristezza da siu spus, la cumedai vladat e la righetza che la aveva ora al mondo. Per tant che la Soncia cantava di e noc in sia cella e l'udava diù, era siu Papa Pampnunzius curdaus in gronda tristezza ed encarcedecina, per quai che sia filha era svanida. Bom mo' il Papa, ma bene eri spus ed autors parenti pliravan di e noc per tema quinceves bo novas da dela. Indi, a il Papa Pampnunzius pux pa ius in quella claustra, nu accalmava sevenz per amflar confirt in tre stis ed el era già in conoscenza leu. So entedic per gi e plirar ed avere quintau leu si da miseria, han insmenau el en cella da Eufrosina, che era geste in quella claustra setzupada. Tant'on, el ha bo inconexeu ella, percià il habbit, las gittinas e las trenches penitencias vevan zon mit au la faccia da Eufrosina. Ma la fila, ha bo pudiusi retenere dal borgi ort compassiun con t'io Bab. Il splais da dela ain semelions. Io vi rugar per tai ed era, ti doais far oraciun, sinne quai che Deus detti la perseveranza el bien ton a ti, scò a tia fila, e che ti possis indi seveser con ella. Il Bab era consolaus, s'era camonda a loro oraciun e va a casa legremain. Eufrosina, sotto il nome da Fra Smaractus, hai vivida in quella claustra trenta ons e gronda sontiedat, senza venir inconoscida, chi che la fossi. Ai se bella che il Bab da Eufrosina, che visitava savent la claustra, va a tir il Fra Smaractus, che era malzauns. Lecce vija che il Bab resti traes dis in claustra e torna in lui fu spaitir el. Da quai, fovi il Bab contens e torna tir malzaun diest, quai di, che quai gron survien da Dio Veste muri. Fra Smaractus, vesentio Bab cum ligiau di, osa, panf nuncius, io vi osa liberar tai da quals biars e grevs che ti hai giù per tua figlia Eufrosina. Avanti a morte hai giù speronza di se veder con ella e premire, io sono quella, tua Eufrosina e ti hai mio Bab. Dio si ha inspirato mai di venire in questa claustra e dare dao la grazia di preservare in toccan la morte che sa vigina osa. Dio si ha voluto che ti seggis osa cèo per claudere i zeis da tua fonte e sattrar sui cerpi. Resti in pace e roge Dio per mei. Con quals pleiz ha Eufrosina randio a Dio si è benedito Olma il s'inde genè di Lion 430. Contre. Contre. DeWork. sowie Grazie a tutti.